Chi è Marco Predolin, l'Isola dei Famosi, e la storia con Michel Hunziker? Marco Predolin è un concorrente della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Conduttore televisivo e radiofonico. Tra i suoi programmi più celebri figura il dating show degli anni Ottanta e il gioco delle coppie. Nome e cognome, Marco Maria Dalmazio Predolin. Luogo di nascita, Borgo Valditaro, Parma. Data di nascita. 26 marzo 1951. Altezza, sconosciuta. Professione, conduttore televisivo e radiofonico. Segno zodiacale, ariete. Marco Predolin debutta nelle radio private alla fine degli anni Settanta, mentre nel 1980 conduce per la prima volta su Telemonte Carlo un programma televisivo. Il successo, però, arriva con il passaggio alle reti Fininvest. Tra i programmi storici ci sono Mama non Mama. Il dating show il gioco delle coppie e il programma musicale una rotonda sul mare. Dopo un breve passaggio il Rai si occupa di televendite. Nel 2004 debutta in un reality show. La talpa, ai tempi condotto da Paola Perego, in cui alla fine dichiara essere la talpa del gioco. Dopo varie esperienze radiofoniche su RTL 102, 5 e Radio Z, partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Ma viene squalificato nella puntata del 2 ottobre 2017 per aver pronunciato una frase blasfema. Dopo l'annuncio di Marco Predolin come concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi. Sono state tante le reazioni sui social, a partire da quella della figlia bianca, vai papà. Noi ti fiamo per te. Invece altri utenti non hanno preso bene la sua partecipazione. Contestando il fatto che per i reality vengano scelti sempre gli personaggi, ma perché riciclare le solite facce? Ci vuole un cast di volti nuovi. Nel 1994 fece scalpore la relazione che Marco Predolin ebbe con Michelle Hunziker. Sui giornali vennero pubblicate alcune foto che li ritraevano insieme in vacanze alle Maldive. La notizia fece scandalo perché all'epoca lei aveva solamente 17 anni, mentre lui 42. La liaison tornò alla ribalta nel 2006 nell'ambito del processo Valletto Poli, dove Michelle Hunziker testimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona per quelle foto che la mostravano alle Maldive insieme a Predolin. Poi, però, la conduttrice fece marcia indietro, dichiarò di aver coinvolto Corona per sbaglio e lo scagionò da tutto. Predolin, invece, venne accusato di essere complice del paparazzo che scattò le fotografie. Per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi l'inviato sarà nuovamente Alvin, video. A lui spetterà il compito di raccontare le vicende dei naufraghi in Honduras. In studio a raccogliere le sue testimonianze ci saranno la conduttrice Ilari Blasi. E gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Il cast è composto da 16 naufraghi, 6 dei quali parteciperanno in coppia. Una delle coppie in gara è composta da Marco Mazzoli e Paolo Nois, video. I protagonisti dello zoo di 105 in onda su Radio 105. Grazie. Grazie.